Forse un apprezzamento di troppo alla compagna del suo presunto omicida potrebbe essere costato la vita a Mohamed Amdi, il marocchino 46enne trovato morto lo scorso 16 agosto su una panchina al laghetto dei Cigni nella pineta di Viareggio. Questa sarebbe l'ipotesi emersa dalle indagini condotte dai carabinieri che hanno portato all'arreso di Mustafa Hesami, marocchino 36enne senza fissa dimora, arrestato la notte scorsa in una baracca a Campi Visenzi alle porte di Firenze. I particolari della vicenda che ha avuto il suo epilogo a Viareggio sono stati resi noti in una conferenza stampa. Sin da subito le indagini si erano concentrate verso l'ambiente dei senza tetto dell'area metropolitana fiorentina, visto che i trascorsi della vittima erano totalmente decontestualizzati dall'area viareggina. Da qua la pista che ha portato all'individuazione del 36enne, nella cui baracca sono stati ritrovati numerosi reperti riconducibili all'omicidio. Si sarebbe trattato dunque di un delitto per gelosia scaturito dalle vicende di un gruppo di senza tetto che avevano deciso di trascorrere il ferragosto in Versilia e quindi totalmente estraneo alle vicende di droga legate alla zona della Pineta. In particolare il presunto assassino vive insieme a una clochard 35enne di origine moldava che non è escluso potesse essere stata presente in Pineta insieme ad altre persone al momento dell'omicidio. Nella loro baracca i carabinieri hanno sequestrato alcuni coltelli che saranno adesso analizzati dagli esperti del RIS e comunque compatibili con le ferite riportate al cuore dalla vittima. Il fermato non ha reagito all'arresto ma si è chiuso nel silenzio. Adesso è rinchiuso nel carcere di Firenze. Il fermato non ha reagito all'arresto ma si è chiuso nel silenzio.